salve e bentornati amici di cose dell'altro cinema oggi vorrei fare un'altra recensione su un film brutto il problema è che sono assolutamente indeciso su quale scegliere perché di porcherie ne abbiamo anche troppe qui ed è difficile scegliere qualcosa di rappresentativo soprattutto dopo le feste insomma ci avviciniamo l'anno nuovo quindi ragazzi forse forse ho trovato questo film di cui non posseggo una copia originale per ovvie ragioni si intitola manos the hands of fate ed è un film realizzato con un budget ridicolo non che ci sia qualcosa di male in questo ma c'è qualcosa di male in questo film questo manos diretto da harold warren che mi pare sia anche il protagonista comunque la principale caratteristica di questo orrendo gioiello dell'horror è quella di essere una vera rottura di palle cioè un po come se qualcuno vi prendesse i testicoli li infilasse in un flipper e ci giocasse per una settimana ininterrottamente per battere il record del mondo ecco ci si sente più o meno così guardando questo film il tempo percepito di tre volte tanto cioè dura un'ora ne sentite tre la trama la trama è quanto di più semplice allo stesso tempo imbecille si possa desiderare cioè c'è questa famigliola papà mamma bambina e cane che sta facendo una gita in macchina e a un certo punto riescono a perdersi in questo intricato rettilineo che stanno percorrendo non sanno se andare lì o qui praticamente e niente a un certo punto siccome sta facendo buio e la bambina inizia a rompere i coglioni perché fa freddo ed è affamata bambina io ho sperato che morisse per prima comunque sta bambina comincia a rompere i coglioni loro decidono di fermarsi e di chiedere ospitalità per la notte a uno scuro e sinistro tizio che se ne sta nel cortile di una villetta isolata nel nulla già la situazione è strana non chiedi a uno di ospitarti non lo conosci non sai chi è se ne sta là nel nulla ma poi sto tizio è proprio strano cioè cammina in una maniera agghiacciante si esprime in maniera agghiacciante e taciturno e comunque quando gli chiedono se possono rimanere lì a dormire sto tizio se ne esce con no il padrone non approverebbe il padrone se vi prende vi fa il culo come un paniere cose così e lui che il capo famiglia giustamente che credo sia il regista fa no no ma ci parlo io col padrone stasera dormiamo da te un po' come nei film di tom e jerry ogni azione ha la sua musichetta e torgo ha un tema musicale tutto suo quando cammina e cammina in maniera un po' claudicante perché è un satiro cioè ha queste gambe da capra però noi non lo vedremo mai perché non si toglierà mai il pantalone né lo intuiremo mai da qualcos'altro ce l'ha dovuto spiegare il regista a posteriori comunque sto coso sto fano sto satiro comincia a camminare perché porta le valigie della famiglia dentro casa e parte sto tema musicale ora già il film è pesante scorre male no poi ci stanno ste musiche che veramente sono ricorrenti sono martellanti c'è ci sono dei temi col pianoforte che sono mortali proprio boh il film vive di tempi che non sono assolutamente cinematografici piuttosto sono teatrali attenzione teatrali nel senso peggiore del termine nel senso che forse a teatro funzionerebbero un po' meglio ma farebbero cagare ugualmente comunque ci rendiamo conto della povertà non di mezzi ragazzi perché quando parlo di povertà non parlo mai di povertà dei mezzi parlo proprio di povertà di ispirazione povertà di capacità ecco ci rendiamo subito conto della povertà del film quando vediamo la casa del padrone ora dopo che questo satiro che poi si chiama torgo ci avvisa che c'è questo padrone iracondo cattivo noi ci aspetteremo di entrare in un altro terrificante invece è una casa normalissima però sul caminetto ci sono delle mani che poi non capiamo se sono fatte di legno se sono fatte di... mi scuserete ma non riesco a capire perché il film è datato ed è stato girato veramente con una camera infima quindi il dettaglio è talmente basso che per quanto mi riguarda quelle mani potrebbero anche essere fatte di merda però insomma ci sono queste mani sul caminetto e poi c'è un quadro alla parete e il resto della casa è normale cioè è un po' come se io entrassi in una bellissima villa tutta in ordine tutta pulita poi c'è un angoletto dove c'è una mannaia un grembiule sporco di sangue e per terra ci sono degli strumenti di tortura io non penserei che quella è la casa di un serial killer io penserei che il tizio si è fatto fare quell'angolino per suo piacere personale perché magari è un fanatico dei film horror ecco questa casa ti dà lo stesso effetto quell'angolo lì non c'entra una mazza col resto e capisci che la scenografia è stata curata solo in quell'angolo ok sopra sediamo la famigliola si sistema la bambina si allunga sul divano con il suo cagnolino il marito e la moglie fanno un paio di chiacchiere inutili tanto per giocare un altro po' a flipper con i nostri testicoli e arriviamo al primo punto di svolta diciamo così perché fuori dalla casa inizia ad ululare quello che credo sia un coyote con il sample audio dei primi film di Bella Lugosi proprio che si sentiva sto lupo ululare ecco quello lì e la moglie giustamente perché anch'io avrei detto così fa scusa Mike quel coyote là fuori rompe i coglioni esci nella notte e provvedi e il marito fa sì adesso vado io insomma sta sto povero disgraziato succube della moglie che esce per scacciare un coyote e il cagnolino lo segue il cagnolino però diciamo lo perde subito di vista perché sto cane schizza nella notte e non se ne vede più traccia e a questo punto lui lo sente guaire prende una pistola in macchina perché lui ha una pistola in macchina e niente lo va a cercare in un tripudio di luci e buio perché la fotografia del film è così c'è un fascio di luce che illumina un'area così tutto il resto intorno è nero è nel culo di una balena proprio non vedi niente la moglie gli fa ma cos'è stato? ma niente deve essere stato un animale selvatico deve essere pieno qui intorno ok a posto così il cane schiatto vorrei fare un piccolo appunto alla moglie l'attrice la tipa che fa la moglie appunto numero uno perché sennò poi mi dicono che sono sempre cattivo questa donna è veramente bella ha un viso molto cinematografico se ci fate caso ecco vi faccio vedere qualche scena veramente stupenda ok signora i complimenti sono finiti cagna veramente recita di merda e ho visto parecchie recitazioni a cazzo di cazzo cioè voglio dire mi sono visto quattro carogni a malo passo ho visto tutti i film di Bruno Mattei quindi voglio dire ho una certa cultura di recitazioni di merda ma questa qua ok mi tocca tornare sull'argomento perché voglio descrivervi una delle scene più assurde dell'intero film cioè l'impostazione teatrale ragazzi ti torna sempre questa cosa lo so che magari sono ripetitivo ma è questo maledetto Warren che è ripetitivo nel fare sempre lo stesso errore cioè in questa cazzo di stanza ci sono il papà e la mamma e c'è la bambina ok e sono tutti e tre là a distanza di un metro e mezzo gli uni dall'altra succede che il papà e la mamma parlano gli dico perché il cane è morto fanno no dai vedrai che la bambina capirà perché è una bambina intelligente figlia a me capirà sicuramente la situazione la bambina non sente un cazzo ora è improbabile perché parlano a voce altissima quindi il regista cosa fa tratta questa scena come se fosse una scena teatrale a teatro però via ragioni di spazio cioè c'è il palco quindi tu hai quello come spazio quindi se un personaggio sta sul lato destro quello che sta sul lato sinistro magari è girato dall'altra parte e lo spettatore capisce che magari non sente quello che avviene sul lato destro anche se magari urlano ma è una convenzione teatrale in questa scena è assurda la cosa ed è ancora più assurdo quando la bambina scende dal divano e percorre diciamo passa a 50 centimetri dal papà e la mamma e non la sentono cioè tipo setta delle ombre sta bambina galleggia sul pavimento senza produrre suoni infatti questi continuano a parlare poi oh la bambina è sparita dobbiamo andarla a cercare e qui c'è un'altra minchiata impostata in questo modo teatrale del cazzo che ragazzi non ce l'ho col teatro ce l'ho con il cinema trattato come il teatro è un po' come imparare a suonare la chitarra con il prezzemolo la cucina e la musica sono due cose diverse ok allora che cosa fanno oh la bambina è sparita no sicuramente sta giocando a nascondino adesso la troviamo e dove la cercano la cercano sul divano nel cammino cioè in quei 4 metri quadri ma ci vuole tanto a capire che se non è nella stanza è altrove no la cercano nella stanza neanche la bambina fosse un tarlo che si infila nel pavimento boh ok andiamo avanti perché prima si fa meglio si sta marito e moglie vanno a cercare la bambina e la trovano insomma che c'ha sto Doberman a guinzaglio e dopo un po' si imbattono in questo colonnato a cui ogni colonna è legata a una donna e al centro di questo colonnato c'è una specie di sarcofago sul quale dorme il padrone il tizio del quadro che loro commentano all'inizio del film e cosa succede? che loro vedono la scena riconoscono il padrone quindi il padrone di Torgo e la moglie giustamente fa andiamocene via da qui e io avevo capito che se ne volessero andare invece se ne vanno via dal colonnato tornano a casa a casa di Torgo a casa del padrone a casa di quelle persone lì non lo so me la spiegate voi sta cosa? se dovessi scegliere la scena madre di questo film cioè la scena che più rappresenta lo spirito schifoso di questa pellicola sceglierei senza dubbio quella che vi sto per presentare tornete a casa marito e moglie insomma la moglie si mette a spogliarsi davanti allo specchio e si prepara per la notte come se nulla fosse successo come se la casa in cui si trova fosse sicura il marito invece va fuori a cercare Torgo perché parole sue gli deve delle spiegazioni a questo punto Torgo tramortisce con un bastone di legno Mike e la scena ve la faccio vedere ok lo tramortisce con una carezza e dopodiché c'è una scena interminabile senza stacchi quindi un piano sequenza a camera fissa di Torgo che trascina Mike verso un albero e lo lega già questa scena è brutta perché insomma è fissa è lunga e la musica di sottofondo non aiuta ma il problema numero uno di questa scena è la fotografia vi ricordate il fatto dell'occhio di bue ecco anche questa è trattata così quindi diciamo che primo non si vede un cazzo perché si vede qualcosa quando Torgo e Mike sono vicini a noi ma man mano che si allontanano quindi entrano nel forto del bosco si avvicinano a quest'albero si vedono sempre meno e l'unica cosa che vedremo a un certo punto sono le falene che volano intorno al fascio di luce finalmente conosciamo un po' meglio questo padrone che si alza da sto sarcofago insomma ha finito il suo sonnellino e subito lo vediamo mentre cerca di calmare una lite tra le sue mogli infatti questo maestro in realtà è una specie di sacerdote poligamo non so di che praticamente le mogli stanno litigando perché si parlava di far fuori la famigliola insomma però una delle mogli dice l'uomo sì la bambina no e le altre dicono no deve morire il maestro ha già troppe mogli sai che la bambina poi cresce diventa una donna ed è un'altra insomma ci tocca assistere a 3-4 minuti buoni di questa che fa l'uomo sì bambina no e queste donne che litigano perché sono gelose l'una dell'altra insomma alla fine si fanno tipo due schieramenti uomo sì bambina no e si picchiano e la scena della colluttazione tra le due diciamo così tra le due cape è una cosa eccezionale a questo punto il film si arena leggerissimamente nel senso che la famigliola viene messa praticamente da parte e il fulcro del film sono i rapporti tra ste mogli Torgo e il maestro le mogli dicono no è colpa di Torgo se siamo in questa situazione perché lui ha portato qui quella famiglia insomma a un certo punto il maestro se la prende con Torgo e lo porta dentro casa non mi ricordo ci si trovano già non lo so non mi ricordo e e praticamente gli dice no tu devi morire perché le mie mogli mi hanno detto che tu quando sei lì e loro non possono muoversi perché vi ricordate sono appese alla colonna così tu gli fai delle cose tu gli fai insomma pare che questo Torgo gli fa ma tu hai un sacco di mogli non ne posso avere una anch'io insomma discorsi di un certo livello a quanto pare il maestro però si incazza e lo uccide lo uccide no non lo uccide in realtà gli sventola questa mano sapete le mani di merda quelle sul caminetto gli sventola sta mano davanti Torgo sembra prendere sonno si accascia al muro e il maestro fa una preghiera non capiamo se l'ha ucciso o meno cioè il maestro gli dice meriti di morire devi morire gli fa sta cosa Torgo sta così tu dici ok è morto qualche scena dopo Torgo ritorna vivo e vegeto per farsi punire di nuovo infatti le mogli lo mettono su questo sarcofago qua dopodiché il maestro lo prende avvicina la sua mano a un bracera una cosa ma voi lo sapete qual è la cosa che mi dà più fastidio di questa scena la mancanza di sonoro cioè a Torgo è stata appena tagliata una mano e non urla neanche fa rumore correndo via a questo punto la famigliola sembra essersi data la corsa campestre sono dispersi nel nulla in mezzo alle piante e a un certo punto spunta fuori un serpente papà gli spara e dice la cosa più stronza che potrebbe dire cioè qui non siamo al sicuro l'unico posto sicuro è la casa cioè devono tornare nella stessa casa di prima la casa di Torgo del maestro delle mani di merda del quadro inquietante sempre quella casa lì cioè io mi chiedo come fai tu a considerare sicuro il posto in cui ti sono successe tutte quelle cose cioè tutte quelle ti è successo niente però è un brutto posto perché ci devi tornare comunque tornare a casa e ci trovano ovviamente il maestro che tiene al guinzaglio questo cane e scopriamo che il cane è un essere infernale infatti ha il superpotere di mandare fuori fuoco l'obiettivo della macchina da presa il papà Mike spara questo sacerdote una volta e niente gli spara di nuovo e ottiene una dissolvenza in nero ora io vi ricorderei la scena di prima in cui Torgo doveva morire e invece si è fatto semplicemente un sonnellino ma è possibile che due scene di morte ci sono in questo film e sono tutte e due confuse non si capisce se uno è morto o no e proprio mentre ci stiamo chiedendo quale sia il punto della situazione ecco eccoci svelato l'arcano sia la moglie di Mike che la bambina sono diventate le mogli di Manos e e niente il film finisce qui è interessante fare però una piccola analisi a posteriori il film per arrivare alla veneranda durata di sei ore e mezzo di un'ora e qualcosa ha delle delle scene riempitive queste scene riempitive sono completamente scollegate da tutto il resto e se non ci fossero il film sarebbe tale e quale non che sarebbe meglio o sarebbe peggio sarebbe una merda in tutti e due i casi ma durerebbe di meno queste scene sono due tizi che pomiciano in macchina e la polizia arriva gli fanno andatemene via da qui ma due tre volte tipo poi ci sono sti poliziotti sti sceriffo non lo so chi sono che controllano in giro ma non c'è una relazione tra quello che loro fanno e quello che avviene alla famiglia e a Torgo e al maestro cioè sono proprio due cose scollegate cioè per assurdo se ci avessero messo la scena di un pescatore che pesca una trotta da 5 kg ci sarebbe stata bene lo stesso che non ha senso comunque è arrivato il momento di fare una considerazione sulla qualità del film e da quello che so cioè magari sono informazioni sbagliate ma intorno a questo film così come intorno a quasi tutti i film di merda che girano per il mondo ci sono delle leggende quella che so io è che questo Warren il regista fosse in realtà il regista di una piccola compagnia teatrale del luogo e che un suo amico fosse un appassionato di cinema e questo Warren giustamente da grande regista gli ha detto guarda il cinema è una puttanata il teatro sì che devi saper gestire le cose io potrei fare un film in due giorni e infatti l'ha fatto così per sfida con il suo amico ovviamente il film è stato quindi manospare che abbia fatto uno schioffo mostruoso alla prima proiettata proprio in questo paese e non so come sia arrivato fino a noi comunque ringrazio ancora una volta la rete ringrazio ancora una volta internet e la possibilità che ci dà di rivalutare questa moneta e questi capolavori non so come Grazie a tutti